Bentornati a Radio Puggino NER. Ci sono degli aggiornamenti molto interessanti su un caso di cui abbiamo iniziato a parlare proprio ieri con una lunga diretta, una live qui a Radio Puggino NER. E ho notato dalle interazioni durante questa live che è un caso che interessa a molti di voi. Per cui vi propongo di continuare a cercare di capirne di più e gli ultimi aggiornamenti che ci arrivano sono senz'altro molto eloquenti. Parliamo di un caso che sta facendo discutere tutta Italia dopo il caso di Gisella Cardia della Madonna di Trevignano, il Santone Cadir, un personaggio controverso che si definisce il sesto fratello di Gesù. E che ha attirato l'attenzione anche del programma Le Iene, che proprio di Gisella Cardia si erano occupati, avevano fatto una lunga indagine, come ricordiamo, negli ultimi mesi. Ma chi è davvero questo Santone e cosa succede dietro le porte della sua misteriosa abitazione? Bene, le Iene hanno provato ad infiltrarsi e quello che hanno scoperto è qualcosa che sembra uscito da un copione surreale. Preparatevi perché oggi parliamo di rivelazioni, di misteri e di cavi staccati. E' arrivato il fratello di Gesù, meno male non ne potevamo più. Dei soliti veggenti a cui appare la Madonna è arrivato tra le genti. Cadir, cadir, cadir. Uno dei figli di Giacobbe e sono tanti. Cadir, cadir. Raccomandato tra i santi. Cadir, cadir. In Italia sono tutti figli d'arte. Cadir, cadir. Ma lui è fratello di Gesù. Un caso a parte. E' arrivato un Santone diverso. Che parla con il Dio dell'universo. Certo parla con Gesù, anche la cardia. Ma vuoi mettere esserne il fratello. Cadir, cadir. Uno dei figli di Giacobbe e sono tanti. Cadir, cadir. Raccomandato tra i santi. Cadir, cadir. In Italia sono tutti figli d'arte. Cadir, cadir. Ma lui è fratello di Gesù. Un caso a parte. Buon ascolto su Radio Puginionare. Insomma, cari ascoltatori, ci sembrava che nel 2024 fossimo arrivati ad un certo livello, vista la tecnologia di evoluzione della specie umana. Invece, nell'anno 2024 DC, ossia dopo Cardia, dopo Gisella Cardia, ci occupiamo di un caso, appunto, come diceva il cantatore immaginato, un caso a parte. Il caso del Santone Cadir, che ha fatto scalpore, ora in tutta Italia, come se non ce ne fossero tanti come lui, però le iene, con la loro solita tenacia, hanno deciso di andare fino in fondo, come hanno fatto infiltrandosi nella sua presunta setta. Grazie all'aiuto di un complice anonimo, finendo una crisi mistica, sono riusciti a varcare la soia di una casa che moltissimi hanno cercato di spiare da lontano. Un ingresso che però non è stato esente da sospetti, dato che il Santone stesso, non appena aperta la porta, ha subito chiesto «Sei un giornalista?» La preoccupazione era tangibile, tanto che l'infiltrato è stato costretto a lasciare in macchina qualsiasi cosa potesse essere sospetta, giacca, borsello, tutto. Una coglienza calda? No, tutt'altro. L'atmosfera all'interno della casa era fredda e strana. I seguaci di Kadir parlavano a monosillabi, quasi recitando un copione, mentre l'infiltrato delle Iene cercava di entrare in confidenza, ma le rivelazioni non si sono fatte attendere. E qui inizia la parte interessante, amici. Il Santone Kadir non ha perso tempo nel dispensare i suoi consigli spirituali, essendo, tra l'altro, il fratello di Gesù. Qual è stato il suo primo messaggio? Devi lasciare i tuoi genitori. Loro ti stanno facendo cose che vogliono loro. Come a dire, la famiglia? Un ostacolo. E se non fosse abbastanza, ecco che arriva l'affondo. Se ti costringono a fare certe cose, allora sono presenze demoniache. Ragazzi, mentre stavo dicendo questa cosa, qui alle mie spalle si è mossa una scatola, è caduta, e un attimo, scusate se la voce ha tremato di paura, ma non so, in quel momento è successa questa cosa. Vabbè, lasciamo perdere. E già, diciamo, non entriamo nel dettaglio, ma tutto si gioca sul filo della paura, appunto, e del distacco da chi ci vuole bene. Questo è noto, no, in tante sette. Ma questa è solo la punta dell'iceberg. Passiamo ora a come si vive davvero nella casa di Kadir. Se vi aspettate un ambiente mistico, ordinato e carico di spiritualità, rimarrete delusi. Le condizioni della casa sono, a dir poco, fatiscenti. Non c'è luce. I cavi elettrici sono staccati. L'acqua non scarica bene e si raccoglie in bacinelle. Insomma, sembra più un set post-apocalittico che un luogo di illuminazione spirituale. E se questo non bastasse, i due adepti del Santone non hanno nascosto il fatto che vivono di elemosina. Certo, la chiamano un atto di umiltà, ma di fatto stanno semplicemente chiedendo soldi per sopravvivere. Ma non fermiamoci solo alla casa o alle condizioni di vita che già da sole sarebbero un segnale di allarme. Parliamo invece di come il Santone manipola le persone fragili. Kadir ha raccontato di avere il dono dell'invisibilità. Avete ascoltato bene? Questa ci mancava. Nemmeno Gisella Cardia era arrivata a tanto. Kadir avrebbe il dono dell'invisibilità. Ecco, allora, a questo punto, quando alle mie spalle è caduta la scatola, in modo strano, mentre dicevo certe cose, non vorrei che era Kadir che stava mandando un segnale qui vicino a me. Spero di no. Insomma, se non mi sentite più, sapete che l'uomo invisibile sta qui insieme a me. Spero proprio di no. Insomma, invisibilità è un dono del tutto nuovo da supereroe più che da Santone. Comunque, dice di essere in grado di vedere Gesù ogni giorno in carne ed ossa. Dunque, vede Gesù ogni giorno in carne ed ossa. D'altra parte, è il fratello, fratello di carne e di ossa, naturalmente. E poi, afferma di essere in più posti contemporaneamente. Dunque, la bilocazione, che se poi fosse in più posti in tre posti sarà la trilocazione o la quadrilocazione, non so come volete voi. Insomma, però afferma di avere anche questo dono ma anche la veggente di Trevignano ne ha parlato di questi momenti in cui lei sembrava essere da una parte in ospedale tutto il racconto di quel miracolo della bambina che sappiamo bene. Ma non possiamo andare nel dettaglio perché ora stiamo parlando di Kadir. Ma, dicevo anche Gisella Cardia, il dono della bilocazione è quello almeno ce l'ha. Non è sorella della Madonna o di Gesù, non è imparentata, però qualche dono ce l'ha anche lei. Dai! Però questo Kadir è fratello di Gesù, ha il dono dell'invisibilità, vede Gesù tutti i giorni in carne ed ossa, può essere in più posti contemporaneamente e dunque insomma questo li batte tutti gli altri veggenti o gli altri santoni. Ma perché tutto questo riesce a fare presa? È semplice Kadir, come molti, santoni o guro si approfitta delle persone in momenti di crisi o debolezza, isolandole, abbiamo ascoltato, soprattutto dai loro cari, convincendole che lui ha tutte le risposte. E dunque l'infiltrato dei Leighene ha riportato che durante la sua permanenza il santone ha insistito sul distacco dai genitori e sui digiuni che purificano lo spirito. Ma questi digiuni non sembrano tanto purificare quanto debilitare chi li pratica creando dipendenza psicologica dal santone stesso. Dunque amici la storia del santone Kadir è solo l'ultima di una lunga serie di casi in cui persone vulnerabili vengono manipolate da figure carismatiche che poi io non vedo mai in queste figure tutto questo carisma sinceramente però c'è chi lo vede e quello che le Iene ci hanno mostrato non è solo un'abitazione trasandata dai cavi staccati è la realtà di persone che cercano disperatamente risposte affidandosi a chi promette di avere soluzioni mistiche a problemi reali ma la verità è spesso che queste figure non offrono altro che illusioni sfruttano l'ignoranza o la paura la vulnerabilità in certi momenti particolari di alcune persone per mantenere il controllo allora vi lascio con questa riflessione quante persone in cerca di conforto finiscono nelle mani di questi guru e a quale prezzo pensiamoci e riflettiamo sul potere che la vulnerabilità può dare a chi sa manipolarla e allora chiediamo anche con insistenza e ora inizieremo a farlo ad ogni episodio che la politica si interessi a questi casi a questi fenomeni perché possano essere messe in atto scritte approvate delle leggi che salvino tutti coloro che anche se fossero dei premi Nobel possono facilmente cadere perché siamo tutti nella stessa condizione in certi momenti della vita premi Nobel o persone talmente ignoranti che proprio non sanno niente siamo tutti uguali in certi momenti della vita tutti possiamo cadere in certi trabocchetti allora cosa dovrebbe fare uno Stato cosa dovrebbe fare una legge cosa dovrebbe dunque fare la politica e interessarsi di tutto ciò creare delle leggi che permettano di isolare di chiudere magari dietro le sbarre se necessario personaggi che si inventano di tutto per manipolare il prossimo e così delle leggi soprattutto più che pensare alla soluzione a se rinchiudere o no certi personaggi ma più che altro dovrebbero essere costruite delle leggi che salvaguardino davvero le vittime di questi santoni naturalmente non sto parlando del caso specifico perché magari è tutto vero magari è davvero il fratello di Gesù non sto condannando Kadirre in questo momento sto parlando in generale perché i meccanismi li conosciamo bene sono quelli ma non sto naturalmente accusando Kadirre di commettere dei reati anche perché non ci sono le leggi per cui allora cari ascoltatori di Radio Puggino continueremo a seguire questo caso a mio avviso molto interessante fatemi sapere voi cosa ne pensate e continueremo a dibatterne nei commenti e poi se riusciremo anche a fare presto altri live in cui possiamo confrontarci in tempo reale grazie per averci ascoltato al prossimo episodio di Radio Puggino Nero di Radio Puggino Nero